E' sempre quello quindi... Come dire, torri sono? Un botto, ok. E ora... Non so di puoi ritoccare il pop, forse? Ah! Se prima il recording... Se si toccate lo stream, eh? No, non ce l'abbiamo, mi sembra. Non l'abbiamo mai avuto... Ah, perfetto. Comunque non l'abbiamo mai avuto, quindi... Per questo non ce l'abbiamo adesso. Ok, dov'è che è il suo PS normale, però? Non vuoi farmi da qui di... Eh, vai, tipo... Il pallino rosso e il mazzo rosso. Hai capito? Ma... E dove essere visto qua? Quattro accordi, in pratica. Eh, ma perché non usciamo stream? E' un atto migliore? No. No. Va bene, fatto, fatto, l'abbiamo fatto. Bene. Fare pure partire... Mono slash zatte. Zatte masco? No, il prezzo? Trago. Guarda che zatte. Trago. Non sono tutte le cose normali. Ma se fatto che c'era più prima? Adesso... Scusa! Ma... Scusa! Ma... Ma... Mi sa che è uno che altro tavolo. Di 5 conti. Mi sa... Un po' per niente niente. A posto? A posto. A posto, bene, sì. Ho tolto alcun aglio. Fate sta roba qua. Fate? Fate? E piccato! Anche a rivermi, non pensé con lui di verde, lui. questo cuore sempre aspettate di una partita ecco ma non è iniziata la zona un po di confusione però come potete vedere il combo no way, il pane e burro però è probabile che avresti preso lo stesso anche se hai fatto l'appliccione non so pane e burro vabbè un giocidotto mette baster ma ha fatto con due fonti ha fatto Rising Tackle per fargli le patch speciali con un ball buff non mi stiamo con i attocchi lì c'abbia no con il feasting, dragon, scat, destroyer si mi stasso esplano tipo il ball suck non penso che ball suck fall in punch per ora abbiamo il vantaggio di gif che riesce a rimettere lo viola per fare tagli attenzione adesso fa la combo hai fatto il batter ah ne più hai fatto davvero hai fatto davvero un taglio in burro bravo su me mi guarda il flion non non anche non 2 1 il di 3 il è infettente ma niente male e abbiamo il primo game per egizia mostro lo scrimpio prima di me stimate tutta la window è il best of five Ah è back to fight! Ah si! Wow è back to fight! Abbiamo già la tua foto lì No No Stai back to fight? Ah io non so la tua foto Non voglio nemmeno Quindi è arrivato? Ah lo va Stiamo su battle build Beh li conosciamo molto questi password build Vediamo sempre quindi Dopotutto Sono iconici Ho mostrato la storia di Matching Ho metto il power tanto Quello è il power down Sai cos'è il PC Basta Ho form Non lo so Riffere cioè mettere i cheat code dentro la combo Ma io non ho i cheat code Che ho detto i cheat? Stai morto da down Da 40 Ah no Stai attire Un po' Ma tu mi pare di continuare No perché Mi pare di continuare Mi pare di continuare Se come già mi siano E mi viene ancora più occupato Sì 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 Ma devo portare tutti i bassi Ma penso ti sia andato X di spazio No se pensavo non ho fatto i band Anche in cento bassi Si Si vede che si trova bene con Falle con Ma bene 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 Ma la testa ma bene Quale Ma è la testa Ma non la testa Ma non è un'altra ma che non hai cantato adesso questo è un controposto con me che l'ha fatto un migliorno guarda come dà oh ti lascio al tuo meta di continuare io sono bravo bene come siamo io sono messi piuttosto bene no non lo so in piatto chiaramente GX sta vincendo alla stop lead ok ma anche ora inizierà io direi che mi aspetti molto tardi bene no più tardi per il giugging almeno quello che fa fuori dal giugto però vediamo un attimo questo game al momento è abbastanza close ottimo shield per evitare la combo però se la prende lo stesso con meno danno ma non è più punta vediamo un po' così si scusano se li sono in mute al momento GX che vede un attimo ah quel back B arrivato troppo in alto con la combo è troppo forte è vero adesso comunque sezione pericolata per dante ecco la speed for smash anche la del battle e ne va bene ma dove va ma che fa ahhh W back B probabilmente un miss input il secondo e anche il primo forse GX reagisce Power smash è secondo game 3 player e gli hanno non lo so romagnolo facciamo romagnolo io dico non me lo intervino cosa ha fatto il lopide cosa ha fatto il lopide bene come ha potuto vediamo un po' con il counterpick di Zante che dovrebbe essere Battletripping Quater Stadium quello che fa in casa quindi match point per GX ehi basta litigare in chat siamo qui per guardare un incredibile match per tante GX mi dispiace? bene comincia quindi il game 3 che è quello che dovrebbe essere il match point per GX appunto per aprire il topo dal lato winners vediamo un po' inizio Zante non potete litigare con il C non con il B il back B sempre ottimo per perdere gli aerial guardate il match è molto facile ah peccato potremmo collegare con il Gare collegare uno special dopo quella feina che bella fondi questa spazio bene con il Bale il GX ma ok ecco che entra legge un salto inizione ecco Zante fa questa cosa buona anche molto buona cioè con il B con il B intercetta Deep Stain Alien che si fa cercare in cammino con un po' però ha inizio la combo un po' di danno eh qua la redden 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 ma trying ancora il GX ma no la redden non trovo la redden la redden ma salda ma sicuramente la redden vuole far sì di power pass ancora non è power pass ancora un pochino di percentuale attuale il fatto di per il 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 ok, avvio the shields quel power wave tutto male l'erdo torna benissimo il misymputizzante che purtroppo per quello che ho visto ancora almeno per 5 game ho visto 3 misymputi costano infatti costano un attimo 7 almeno andiamo qua 3 stock comunque io penso che no, pensavo che vorremmo mettere lo shield prima possibile ma penso che sia consumato un momento eccolo qua a B morto non aveva ancora lo shield pronto ok 2 stock per Giggs che al momento deve solamente controllare facciade bene con sui bait con sui nair, manda off stage torna con se B non ha lag non ho nessun problema non se la combo non quello stesso davvero benissimo dominio in questo game di Giggs anche comunque dovuto al si ma anche al al misymputizzante che poteva tornare si è stato ucciso da del Sour Sport ma spero si ottimo probabilmente si 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 mi comanda molto bene il game un attimo si infatti anche se comunque davvero ottimo ottimo vediamo un po' metterlo smash amici smash uuuu ottimo questo lo shield mi sono lo saprei sinceramente tutti vaccinati sì a parte BOSS si è tutto il tampone quindi sono attenzione dira ok troppo power 3 al B il 3 al B ed è un 3 a 0 per Giggs che quindi approda alla 8 dal lato winner ho risposto siamo tutti vaccinati ah no